Il mio messaggio innanzitutto è di vicinanza vera nei confronti di chi subisce questo tipo di disastro e soprattutto alle popolazioni colpite a cominciare dalla mia Sicilia e naturalmente a tutte le altre regioni. Però credo che anche qui ci sia una carenza assoluta di coordinamento e soprattutto di dedizione e di investimento. Sempre emergenze, sempre rincorse, mai prevenzione, ma anche nell'emergenza sempre ritardi. Ma è possibile che ogni volta che arriva l'estate, ogni volta che arriva questo tipo di calura o ogni volta che ci sono anche atti dolosi noi non riusciamo a realizzare l'intervento immediato per essere efficaci e per evitare che centinaia e migliaia di ettari di nostra macchia mediterranea, di un valore incommensurabile, ma anche per quanto riguarda naturalmente abbiamo visto che questa volta gli incendi hanno lambito e hanno creato danni anche alle strutture, agli animali, alle fattorie. Allora realizziamo la possibilità di dire che c'è necessità immediata di investire di più e meglio, ma soprattutto di prepararci meglio e di più a questo tipo di eventi. Lo sappiamo che ci sono, lo sappiamo che esistono, ogni volta facciamo finta di nulla e naturalmente questo dipende dall'investimento nazionale, ma anche e soprattutto dall'investimento e coordinamento regionale.